Sì, è stata una vittoria che noi lo sapevamo perché da quando è arrivato Sasa Campilongo la Puteolana fa tutti i risultati equilibrati. Però è stata una vittoria che abbiamo voluto anche nei cambi perché abbiamo fatto sempre cambi offensivi per cercare di fare gol perché noi ci credevamo, anche perché avevamo visto che gli ultimi 20 minuti loro avevano avuto un calo. Però devo dire, grande Puteolana, ben allenata, primo tempo molto equilibrati, poi nel secondo tempo ho visto che loro hanno calato molto i ritmi ed ero sicuro che con tutti questi cambi forti che abbiamo noi potevamo fare questa vittoria. Un innesto abbiamo fatto di piazza, sono andati via a tre, però sì, è arrivato da noi giovedì, l'ho buttato dentro, ha fatto una buona partita anche lui. Però mi fa piacere soprattutto per l'Attanzio perché è un giocatore che si sta dannando un attimo, ci sto credendo dall'inizio. Tanti lo facevano già via, i filosofi del calcio, io ho cercato di dargli sempre forza e oggi ha ripagato tutto il nostro impegno.